Devo dire che quest'estate è stata una delle state più difficili da quando faccio il sindaco. Non è mancato nulla e infatti sono stato, anche se qualche giorno fisicamente lontano da Napoli, sono stato impegnato ogni giorno su fronti così delicati che francamente mi è venuto quasi da sorridere quando ho letto anche un dibattito molto interessante intellettualmente quest'estate, sia sul corno a Rotonda Diaz e sia sui 27 portaborse che avrei assunto. Quindi vorrei tranquillizzare su questo dibattito che non mi ha assolutamente interessato ad intervenire immediatamente perché ero preso dalle vicende gravi che ho seguito sia del terremoto di Casamicciola, l'Acquameno, Ischia e sia per quanto riguarda la città di Napoli in particolare l'incendio di Scampia che il dibattito del corno mi vede molto lontano perché non è il corno del sindaco, quello di cui si sta parlando e io non ho assunto nessun portaborse. Esattamente c'è stata una richiesta delle forze politiche presenti in Consiglio Metropolitano che ricordiamo tutta la parte politica svolge una funzione a titolo gratuito senza guadagnare nemmeno un centesimo, di poter avere per meglio esercitare la loro funzione a disposizione un collaboratore a tempo determinato. Questa cosa siccome è una richiesta che normativamente, amministrativamente, giuridicamente e finanziariamente può essere fatta la città metropolitana, io l'ho considerata una richiesta da prendere in considerazione qualora c'era, come mi pare di essere, una richiesta unanime di tutte le forze politiche, ma io finora non ho assunto né un portaborse e anche qualora questa cosa dovesse andare in porto non sono i 27 staffisti di De Magistris, ma bensì è tutt'altra cosa, quindi anche questa è una polemica francamente assolutamente pretestuosa e assolutamente priva delle cognizioni di quello di cui si sta parlando, quindi non è questo il tema. Invece stiamo qui in comitato per occuparci di cose serie, c'è qualcuno che cerca ogni tanto sempre di fare polemiche inutili, invece come ho scritto in un recente post su Facebook qualche giorno fa, io lavorerò per sempre una maggiore coesione nella nostra città. Napoli è stato anche sotto attacco in quest'estate, sono stati fatti molto gravi, alcuni criminali come gli incendi e quindi c'è bisogno della massima coesione istituzionale e che il clima che ho sempre trovato in comitato e sono convinto che fra un paio d'ore quando usciremo ci saranno delle novità importanti nell'interesse della nostra città.